Un ragazzo ferito a Napoli, un immigrato percosso a Bosco Reale e una tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Afragola. Forze dell'ordine in servizio nella notte nell'area metropolitana di Napoli. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Poggio Reale sono intervenuti presso il CTO per un minorenne ferito. Accompagnato dalla madre, il 14enne ha raggiunto il pronto soccorso con una ferita all'addome, provocata probabilmente da un oggetto appuntito. Per lui prognosi di 30 giorni. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma i militari dell'arma sono al lavoro per capire la dinamica dell'evento e ricostruire l'identità delle persone eventualmente coinvolte. Carabinieri al lavoro anche a Bosco Reale, dove in via Cangiani è stato ferito un uomo. Si tratta di un 32enne di origini marocchine, colpito alla spalla e alla testa, forse con un coltello. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale del mare. Anche lui non è in pericolo di vita. Ad Afragola, invece, un uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. I militari, quelli della locale caserma e quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli, sono intervenuti sulla base della denuncia dell'imprenditore minacciato.